Sono in compagnia con Massimo Scarduvi, tecnico del Gabice Gradara. Mister, siamo partiti con il piede giusto? Diciamo che vincere 3-0 è sempre una bella iniezione. Soprattutto poi è stata una vittoria che è arrivata attraverso il gioco, attraverso idee. I ragazzi sono stati in una giornata anche abbastanza calda, non molto calda direi, sono stati molto bravi. Però insomma questo ci dà fiducia per il proseguo, però noi sappiamo che le insidie sono dietro l'angolo e dobbiamo sempre allenarci e cercare di fare sempre meglio. Oggi parchi assenti, vediamo Cinotti, passere, grazie, motivi tecnici o purtroppo per motivi che magari non erano di salute in forma? No, avevano dei problemini fisici, non abbiamo voluto rischiare. Adesso alcuni stanno facendo un lavoro a parte, altri invece come Cinotti lui non può fare niente perché ha un risentimento. Speriamo di recuperarli per sabato per la prossima partita. Domini che comincia il campionato, se va a Marzocco, come affronteriamo questa partita? Con gli schemi di oggi? Forse come oggi va benissimo, sappiamo che l'Olimpia è sempre una squadra ostica, una squadra difficile da affrontare, però noi abbiamo la nostra filosofia, il nostro modo di essere, di giocare e andremo a Marzocca sabato a giocarcela per provare di vincere la partita come abbiamo fatto sempre in questi ultimi tre anni, senza timore rivenziale degli avversari, con rispetto, però sappiamo che se noi giochiamo a calcio possiamo mettere in difficoltà chiunque. Ultima mia domanda, contento degli acquisti, soprattutto dei giovani che sono arrivati? Beh, diciamo che oggi Ciaroni ha fatto una buona gara, ha fatto un bel gol, ha giocato per la squadra, ha delle ottime qualità tecniche, quindi è un giocatore che nel 2003 ci verrà utile, ci verrà e io spero che migliori sotto l'aspetto fisico e siamo contenti, ma siamo contenti nel senso che sono giovani i bravi, ma quello che conta è l'ossatura che noi abbiamo che fa fare la differenza anche a questi ragazzi. Obiettivi della società? Minire il campionato? No, cioè si dice sempre che il Gabice deve fare bene perché negli ultimi anni ha fatto bene, quest'anno è ancora un'incognita, nel senso non sappiamo le avversarie se si sono rinforzate, sappiamo che l'Osimana sicuramente avrà fatto la squadra per vincere, sappiamo che la Filotronese è una buona squadra, il Moia sicuramente è una buona squadra, noi come ho detto prima, noi ce la andiamo a giocare con chiunque, senza paura e proviamo a fare sempre il nostro meglio, se giochiamo e proviamo le situazioni che anche oggi a tratti ci sono visti e sono state penso anche belle da vedere per il pubblico, penso che ce la giochiamo con tutti.